In una nota su Facebook, il giornalista Pietro Comite denuncia che a causa della mancata toponomastica ad Oliastro Cilento, paese noto alle cronache per via della statua di Padre Pio, un pensionato iastresi ha rischiato la vita. L'assenza della toponomastica ha reso difficoltoso l'arrivo del 118, scrive Comite. È accaduto di notte nella contrada San Pietro, dove l'ambulanza ha girato a lungo in vano prima che un amico del pensionato si portasse in zona per fare da guida al mezzo di soccorso. È questa una carenza gravissima che si raccorda a via Generale De Stefano con la targa rimossa per lavori e non ricollocata fin dal 2011. Non meno grave l'assenza di segnaletica vietante l'accesso del centro storico di Oliastro interessato da lavori. Alla via Maddalena persiste la rete che per metà dall'inizio dei lavori vieta il transito delle auto. Non un solo divieto di accesso alla piazza De Stefano attualmente in corso di pavimentazione. Al termine della nota il giornalista Pietro Comite si pone delle domande. Esistono amministratori e uffici comunali preposti alla toponomastica e dalla viabilità che conseguono e risolvono le carenze emergenti o bisogna rivolgersi sempre al sindaco per chiedere diritti ed attenzioni?